Ciao ragazzi, ciao ragazzi, benvenuti a questo video, non ci fate cazzo se c'è un po' la voce bassa ma spero che mi passi a forza di stare al mare vi volevo mostrare alcune cosine che ho acquistato così per l'estate da Tiger o da Primark o da Tully Whale e sono cosine piccoline però carinissime, adesso vi mostro subito allora c'è questo qui, l'ho preso da Primark e costa 1,50€ è praticamente un portabicchiere gonfiabile a modi fenicottero, carinissimo e vedete il prezzo bassissimo, mi piaceva, era roso, figuriamoci se non lo compravo poi da Tiger invece, originalissimo, il portaocchiale da mare a forma di solare, vedete poi c'è qui l'apertura, mi sembra che l'ho pagato 1€, 2€ proprio, vedete qui si mettono gli occhiali così è protezione di plastica, waterproof, chi lo sa altra cosina da Tiger che ho acquistato è la borsetta con il gatto, cioè è troppo carina non potevo non averla, guardate questa l'ho pagata 6€, poi volendo si può fare da pochette che si tolgono vedete qua i laccettini con i moschettoni ancora da Tiger c'era questa pochettina qui, carinissima, rosa a forma di bocca e poi la bottiglietta con il moschettone che quando non è piena si schiaccia e vedete rimane poco ingombrante, invece quando funziona non so quanto ci starà dentro non è che ci sta più di tanto di acqua, però è comoda con il moschettone si attacca allo zaino se uno si è indiale da Tully Whale invece ho preso queste ciabattine qua, Mermaid, Criu 5,99€, beh per il mare ci stanno proprio, sono troppo originali, giusto? due cose top per l'estate sono questi specie di toppettini di pizzo ho preso da Yamamai, ce l'ha anche intimissimi, 19€ Brassieri, penso che si pronuncia così, non vorrei fare gaffe che poi dopo mi sgridano è carino da mettere anche come copricostume sotto con un pantaloncino o qualcosa vedete come è fatto dietro, per cui è originale si può mettere con un reggiseno a fascia oppure non è imbottito una leggera copertura ai segni ovviamente altra cosina carina che adesso va tantissimo di moda sono le colanine per la vita e soprattutto d'estate con i parei o con i toppettini corti vedete con la colanina così come sta bene, a me piace un sacco tra i marchi ho trovato questa magliettina carinissima sapete che lì le cose costano pochissime, questa l'ho pagata 4,90€ vedete è abbastanza cortina così dietro e con il pizzo davanti c'era anche di diversi colori mi sembra, bianca, nera, però brosa è la più carina per l'estate ultima magliettina carinissima, questo top qua della Tully Whale con gli ananas, quest'anno vanno tantissimo gli ananas corti come sempre questa maglietta c'era anche mi sembra con le palme o qualcosa del genere però con la bronzatura secondo me stava meglio questo qua mi piace, è carina? 7€ mi sembra qualcosa, all'incirca ultimo pezzo che ho acquistato, questo qui, 12€ da Primark carinissima, la borsetta Unicorn e ha questa borsetta davanti, questo e poi dentro ha due scompartimenti quindi è comoda per il mare perché ci sta un sacco di roba il video è terminato, spero che vi siano piaciuti gli articoli che vi ho mostrato magari vi possono essere anche utili per qualche acquisto da poco per quando partirete per le vacanze vi saluto e ci vediamo molto presto al prossimo video ciao, bacio ciao, 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 bacio ciao, ciao, ciao